L'intesa sulla nuova legge elettorale potrebbe essere vicina. Dopo il via libera di Silvio Berlusconi, l'apertura di credito verso il cosiddetto Rosatellum Vis, un sistema a base proporzionale con correzione maggioritaria, presentato oggi alla Camera, è arrivata dai principali colonnelli di Forza Italia, che hanno confermato la linea dettata da leader. Il capogruppo dei deputati azzurri, Renato Brunetta, parla di un utile compromesso rispetto al modello tedesco preferito dagli azzurri, e assicura che siamo pronti a sostenerlo. Giovanni Toti, consigliere politico di Berlusconi, sottolinea che in queste ore si è fatto un deciso passo avanti per omogenizzare due sistemi di legge tra Camera e Senato e superare quel sistema elettorale uscito dalle sentenze della consulta che difficilmente avrebbe garantito governabilità. Il capogruppo dei senatori Paolo Romani apprezza, che nel testo, siano previsti il concetto di coalizione e oltre il 60 per cento di proporzionale e precisa che la legge si farà, anche senza il M5S, contrario al ritorno delle coalizioni. L'accordo è tra PD, FI, Lega e centristi. E che i grillini si chiamino fuori è stato formalizzato in mattinata dal deputato Danilo Toninelli. Non sprechiamo tempo con chi sta cercando di scrive la terza legge elettorale incostituzionale dopo il Porcellum e l'Italicum. Tra l'altro lo stanno facendo per danneggiare i 5 Stelle.